Che cosa ne pensa della riforma RAI approvata dal governo Renzi? Pessima, pessima perché porta tutto potere al governo, quindi il governo farà il buon e cattivo tempo come se già ora non lo facesse e non risolve i problemi fondamentali della RAI, cioè quelli della qualità, quella dell'eccessivo costo. Ricordiamo che la RAI si porta via tutti i soldi pubblici per quanto riguarda la comunicazione, la cultura del nostro paese. Quindi è un'idrobora che utilizza il denaro dei cittadini per finanziare programmi il più delle volte inguardabili che altri fanno senza utilizzare i soldi pubblici. E quindi noi pensiamo il peggio possibile e crediamo che si potesse fare molto molto meglio anche dando risalto e valore a chi invece il servizio pubblico lo fa, ovvero nei mitenti locali che oggi invece sono fortemente penalizzate da questa riforma e sono in generale bistrattate da questo governo. Che cosa bisognava fare? Sicuramente diminuire i costi della RAI e sicuramente individuare quello che è il servizio pubblico, ovvero quello che noi tutti i cittadini finanziano attraverso, spero in futuro non il canone, ma qualcosa di più equo e evitare invece di pagare i mega compensi alle starlette varie in modo ingiustificato attraverso i soldi pubblici. E dopodiché diminuire i costi perché ci sono tantissime produzioni che hanno dei costi che sono pesantemente fuori mercato. A livello politico è vero che Renzi ha trasformato la RAI nella TV del Presidente del Consiglio? Di fatto sì perché lo controlla attraverso le nomine in quanto i componenti sono disegnati dal governo o comunque sono espressione della maggioranza, quindi chi vince piglia tutto e se fosse stato Berlusconi a fare la stessa cosa ci sarebbero le manifestazioni di piazza, le ha fatte Renzi, quindi tutto va bene, almeno per loro.